ciao a tutti bentornati canale leds led di stati quattro minuti per la puntata di oggi andiamo con la prima domanda miglior tv miglior marca del televisore attuale e io direi sony sony secondo me rimane sempre la riproduzione più fedeli di colore di nitidezza io almeno la preferisco poi ovviamente samsung a seguire ma siamo più o meno sullo stesso livello che samsung fa televisori anch'essi stupendi migliorata tantissimo gli smart tv di samsung sono veramente eccezionali ma secondo me come fedeltà di immagine sony ancora oggi è la numero uno poi la seconda negli smartphone il 3d se è stato un flop se si riprenderà a vedere qualche smartphone col 3d mi chiedono io dico che è stato più che un flop è stata una prova di lg in un dispositivo che ho detto subito che non avrebbe avuto seguito per il semplice motivo che lo reputo inutile c'è lo smartphone in col 3d in questo momento non serve la gente di vedere senza occhiali lo smartphone in 3d non ha interesse che poi dà anche fastidio alla vista forse non siamo ancora al punto così diciamo espanso del 3d per poterlo mettere sugli smartphone a parte che secondo me non è una funzione utilissima almeno al momento sulle tv sicuramente si espanderà sempre di più ed è una funzione molto molto interessante ma sulle tv però ecco per vedere film in formato full hd o 4k in 3d o eventi sportivi sicuramente il 3d può già funzionare bene per quanto riguarda invece il discorso smartphone no no e non ha futuribilità immediata perlomeno poi magari in futuro più lontano si vedono e rivedranno anche smartphone in 3d un'altra cosa interessante che c'è un appunto che ci fa l'utente gabriel franzone che un utente molto giovane mi pare abbia 15 anni ma è molto preparato infatti non c'è età per essere bravi ci fa questo appunto sul chromecast un'altra volta avevo parlato del chromecast lui ci dice vi riporto quello che mi ha scritto proprio chromecast può rivelarsi inutile se si possiede uno smartphone dotato di miracast in quanto possiamo effettuare le medesime operazioni di chromecast connesse entrambi alla rete wifi poi lui scrive ancora se si possiede un device apple ipad iphone la chromecast è praticamente inutile perché si può utilizzare solo con youtube e anzi lo si può già fare con una smart tv se connessa la stessa rete wifi quindi questo è un appunto perché magari è indeciso di prendere chromecast ecco queste due cose che il nostro gabriel franzone ci ha detto che possono aiutarci per una scelta di questa eventuale chiavetta molto utile di google per il wifi per la riproduzione di file appunto multimediali torniamo alla quarta domanda il futuro degli wear ball cioè degli indossabili vale a dire tipo il gear fit o gli occhiali di glass di google ecco il futuro assolutamente è dei wear ball come parlavamo dei redoni dei droni perché sicuramente gli indossabili cioè gli orologi indossabili multimediali per per lo sport per fermare funzionalità come il gear che stanno uscendo come i sony watch come le leggi watch sicuramente sono in espansione e miglioreranno sempre di più ma in futuro noi avremo la tecnologia addosso avremo magliette che ci collegheranno a internet e daranno risposta agli occhiali che abbiamo del sito che stiamo cercando purtroppo magari anche strano dirlo ma magari le future le future generazioni tra un secolo 2 3 sarà per loro normale essere dei robot andremo in giro magari con tutte dei wear ball indossabili saremo connessi alla rete sempre e potremo interagire con i nostri indumenti e vedere internet e vedere quello che ci interessa al momento saremo sempre connessi saremo praticamente un po robotizzati tra virgolette magari per quelle generazioni sarà normale per noi ancora oggi siamo molto tecnologici siamo in una nuova era ma ancora non siamo arrivati a quel livello lì ma sicuramente wear ball all'inizio di quello che poi sarà il futuro tecnologia sempre più addosso sicuramente è un'altra domanda social network cosa ne penso se possono far bene male se non bisogna esagerare cosa ne pensano pensi social network sono una cosa un'invenzione favolosa sono molto utili su usati con intelligenza collegano le persone gli amici divertimenti possono essere utili per il lavoro possiamo condividere le stesse idee istantaneamente l'unica cosa non abusarne cioè quando fai un ora due al giorno sono già tante ogni tanto clicchi sul tuo smartphone il tuo facebook o il tuo twitter vedi le tue le tue messaggi condividi qualche tuo spirito libero qualche tua idea della giornata finita che non deve diventare una malattia sono come tutte le cose se si esagera sicuramente non fa bene no quindi sicuramente positivi ma usati bene ultima chi sono questo è piaciuto perché chi sono i tecno fan allora tecno fan sono per esempio prodotti di tecno fan sono io o chi come me è una super appassionato malato di tecnologia che possiede tanti e tanti prodotti tecnologici che sempre al passo coi tempi vuole sempre i prodotti tecnologici innovativi nuovi ecco il tecno fan è un super appassionato di tecnologia io faccio un piccolo appunto e l'ultima domanda non bisogna mai esagerare cioè la tecnologia può aiutare nel lavoro può aiutare nel tempo libro va bene che se uno è tecno fan deve avere molta più tecnologia di uno che non lo è però non condizioniamo la vita solo con la tecnologia in tutte le cose secondo me ci deve essere una misura se uno fa una cosa diciamo con molta passione come pensa anche la tecnologia e ne trae vantaggio è positivo se esagera è negativo bisogna sempre lasciare uno spazio un'apertura per il resto delle cose allora se c'è un equilibrio tra la tua super passione e il resto delle cose nella vita tua in equilibrio se sei stramalato e basta e cadi nel tunnel allora dopo rischi di che le cose non vadano bene quindi mantenere sempre un equilibrio che c'è anche il resto ecco ecco però un tecno fan è una bella cosa sicuramente alla prossima coi quattro minuti ciao grazie